Ciao da Avsim, parliamo forse l'ultima volta del caso Bonucci mentre è ufficiale il suo passaggio all'Union Berlin. Ha scelto l'Union Berlin che gli aveva fatto questa offerta dopo aver aspettato a quanto pare la Lazio perché voleva restare in Serie A. Sembra che sia stato Sarri a non essere convinto di questa soluzione. Forse è meglio per Bonucci perché onestamente andarsi a fare gli ultimi mesi o l'ultimo anno, gli ultimi due anni di carriera in Bundesliga e almeno per questa stagione pure in Champions League, sei partite. Tra l'altro anche contro il Napoli e contro il Real Madrid, quindi comunque sfide importanti non è mica poco. Per il classe 87, quindi stiamo sicuramente parlando di un giocatore a fine carriera o a carriera finita. E infatti dico subito, a scanso di equivoci, ribadisco anzi, che per me Bonucci non è neanche più un idolo come lo è stato anni e anni fa, fino a prima che lasciasse la Juve per andare al Milan. E non tanto perché poi se n'è andata al Milan e ci ha esultato in faccia, che mi è sembrata anche una cosa di rispetto per la propria squadra attuale. A me non piace quando si segna contro un ex e non si esulta, ma per una serie poi di atteggiamenti successivi e quindi poi negli ultimi tempi l'ho criticato tantissimo, ho anche detto che non fosse degno di essere capitano. Per una serie di comportamenti, quindi a me non interessa neanche, dispiace che Bonucci se ne sia andato. E come se ne è andato e come è stato sostanzialmente cacciato ed è il principio il problema. Che si tratti di Bonucci o che si fosse trattato di chiunque altro non sarebbe cambiato letteralmente nulla. Neanche il fatto che Bonucci ha fatto 500 presenze con la maglia della Juventus, che sia stato capitano, storico appartenente a della BBBC, Basai, Bonucci, Chiellini con Buffon. Anche questo diciamo che mette un poco, non sposta gli equilibri questa situazione. È soltanto un elemento, casomai, in più per dire quanto le cose avrebbero dovuto andare in maniera diversa, soprattutto per un discorso di rapporti, soprattutto per un discorso di conoscenza dell'uomo e del calciatore e quindi a livello professionale. Poi che per la Juventus alle Grentus attuale fosse necessario privarsi di Bonucci non è una cosa scandalosa, non è sbagliato. Ci sta che Bonucci fosse un peso, fosse un fastidio, fosse un problema per mille motivi, ma il punto è capire quale motivo. Ora, Bonucci accettando di andarsene pare a questo punto abbia rinunciato ad ogni pretesa. Non è dato a sapere al momento, ma potrebbe esserci qualche strascico legale, soprattutto per quelli che sono comunque dei comportamenti oggettivi della società alle Grentus nei suoi confronti, che potrebbero aver rappresentato delle irregolarità a prescindere poi dall'esito della situazione. Però è probabile che Bonucci, firmando comunque con l'Alle Grentus un accordo che vedrà l'Alle Grentus versargli comunque dei milioni, a proposito, a titolo di buon'uscita o a titolo di compartecipazione allo stipendio, potrebbe aver firmato anche un null'altro a pretendere. Quindi si chiudono tutte le vertenze, pace fatta, tra virgolette. Cioè andiamo avanti, compromesso e quindi Bonucci rinuncia ad altri diritti come fosse anche un risarcimento per il trattamento che ha ricevuto. A proposito, alla fine non è neanche questa operazione chissà quanto vantaggiosa. Su Calcio e Finanza ci sono le cifre e si parla comunque di più di 10 milioni di effetto positivo, ma più che altro perché non si va più a sostenere il costo residuo a bilancio e non si va più a sostenere lo stipendio, tranne una parte. Però c'è minusvalenza per quello che è il costo storico e quindi comunque metti minusvalenza. La cessione all'Union Berlin è a zero, cioè non gli danno manco un euro, l'Union Berlin non ha pagato all'Alle Grentus manco un euro, quindi non essendoci tutto questo grande vantaggio, a parte il fatto di non pagare la totalità dello stipendio, davvero dobbiamo già escludere la motivazione economica. La motivazione economica va a questo punto esclusa. Va esclusa perché altrimenti sarebbe stato necessario fare le stesse valutazioni, le stesse mosse anche su, per esempio, Pogba, cioè perché appunto se hai bisogno di questi pochi milioni di risparmio su Bonucci allora li vai a risparmiare anche su Pogba, con la differenza che su Pogba puoi addirittura ottenere un pagamento per il cartellino, perché è una situazione ben diversa. Pogba potrebbe ancora andarsene in Arabia, dove il mercato chiude la settimana prossima, il 7 settembre, e questo però è un altro discorso, ma per il momento Pogba non è stato messo fuori rosa e non è stato messo nelle condizioni di doversene, di doversene andare, di doversene andare, senza parlare di Allegri stesso, che prende 7 milioni netti e quindi ne costa 13 lordi, più ci sarebbero i bonus, di cosa stiamo parlando? Quindi è difficile in maniera sensata, seria e coerente parlare di vantaggi economici, di necessità, di bilancio, per cui Bonucci è stato costretto ad andarsene. Allora dobbiamo indagare la motivazione tecnica. Qual è la motivazione tecnica? Bonucci non è più in grado di stare in campo. Anche qui io non lo metto in discussione. È chiaro che Bonucci sia ormai un ex calciatore. Sapete quanto ho battagliato contro i rinnovi a Chiellini, all'epoca anche a Barzagli. Eppure, tra l'altro lì, quando io dicevo che non bisognava rinnovare il contratto a Barzagli nel 2018, mi prendevo le accuse di critica tutto, anti-Giuventino, vai tu a fare il dirigente. Quando contestavo il rinnovo biennale a Chiellini, fatto solo perché potesse andare al Mondiale, la stessa cosa. Adesso Bonucci non ha rinnovato, aveva un altro anno di contratto e quindi le stesse persone che mi accusavano, nonostante io dicessi serve programmazione, serve liberare spazio, anche Buffon, la stessa cosa, serve liberare spazio per i giovani, avrebbero dovuto dire Bonucci ha un anno di contratto, teniamocelo. Invece no, denigrano e attaccano Bonucci e dopo ci arriviamo. Ma la motivazione tecnica, se fosse vero, diciamo che è vero, Bonucci non è più in grado di giocare, costa troppo, non è più in grado di giocare. E Alexandro? E Alexandro? Dice, ma Alexandro è un po' più giovane. E cosa c'entra? Se stiamo parlando di motivazione tecnica, cioè Bonucci non è più in grado di giocare, Alexandro avrà l'atletismo, l'atleticità ancora di andare in campo, proprio stiamo esagerando, ma in che modo? A fare disastri? A fare disastri? Cosa poteva fare peggio di Alexandro Bonucci? Cosa può fare peggio di Alexandro Huizen? Cosa può fare peggio di Alexandro Gatti? E altri che non sono stati presi in considerazione, tipo De Winter che è stato mandato via. Cosa può fare peggio? E' una domanda alla quale la risposta è chiara. Quindi non possiamo seriamente parlare neanche di motivazione tecnica, perché altrimenti sarebbe stato da cacciare anche Alexandro, che invece è titolare. E allora di che cosa dobbiamo parlare? Di motivazione anagrafica? Beh, se è una motivazione anagrafica, qualcuno deve spiegare perché l'anno scorso si è preso Di Maria, che aveva la stessa età di Bonucci. Dice, ma quello è Di Maria, tant'è vero che adesso al Benfica sta facendo anche meglio di quello che ha fatto all'Allegrentus. Ma infatti nessuno mette in discussione quanto sia forte Di Maria attualmente e longevo rispetto a Bonucci. Il punto è che non stiamo parlando di questo, stiamo parlando dell'età anagrafica. Allora, l'età anagrafica non è. Lo stipendio non è. Il livello tecnico, quindi la capacità di giocare, non è. Perché vedete che altrimenti non c'è coerenza. Allora l'unico motivo che resta è quello politico. E' l'unica ragione che resta. Cioè, Bonucci sta antipatico ad Allegri. Ora, il problema qual è? Che Allegri nell'intervista a Dazon dice tranquillamente che lui e la società già a febbraio gli avevano detto che doveva farsi da parte. Cioè avevano avuto l'arroganza, permettetemi di dire, a Bonucci che aveva un altro anno di contratto che avrebbe dovuto trovarsi un'altra squadra o ritirarsi. Ma chi ha il diritto di dire a un calciatore ti devi ritirare con un altro anno di contratto? Ma questo già dimostra la scorrettezza. A parte che poi Bonucci dopo febbraio ha continuato ad essere schierato anche titolare e ha continuato a giocare. segno che non era così vero che non fosse più valido. Non era così vero. Poi, chiaramente, lo metti anche fuori rosa. Quindi non si può più allenare con la prima squadra, non si può più allenare con l'allenatore. Per modo di dire, è chiaro che lo fai anche peggiorare. Infatti adesso vedremo quanto gli servirà per giocare in Bundesliga e in Champions con l'Union Berlin. Quanti minuti riuscirà a fare. Contratto per un anno, a quanto pare, con opzione per il secondo. Adesso, tra l'altro dicevo, forse è l'ultimo video perché aspettiamo se farà delle dichiarazioni Bonucci. Nel momento in cui il registro non le ha fatte è stato solo appena annunciato a livello social dall'Union Berlin. E sarà interessante eventualmente commentare sue dichiarazioni sulla Juventus perché ha detto poi avremo modo di parlare e di salutare i tifosi andando ieri in aeroporto. Però appunto non lo metti neanche nelle condizioni. È chiaro che poi non è nelle condizioni. Se invece lo alleni, invece Pogba va allenato e Allegri stravede ancora per Pogba e dice che è un giocatore diverso dagli altri. Cioè stiamo parlando comunque di un catorcio. Non ha l'età di Bonucci ma che rendimento ha. E perché è stato tanto infortunato. Anche Bonucci ha avuto infortuni l'anno scorso ma ripeto, non lo metti neanche nelle condizioni di vedere se è valido. Come Allegri non ha voluto valutare Zaccaria, non ha voluto valutare Artur. Non aveva voluto valutare l'anno scorso Cambiaso, Rovella perché li ha mandati via. Due anni fa Fagioli. Siamo alle solite da questo punto di vista. E quindi se veramente Bonucci è stato praticamente silurato a febbraio abbiamo la conferma del comportamento scorretto. Cioè poi quest'estate non è stato messo fuori rosa per un periodo limitato di tempo come è previsto dall'accordo collettivo per un periodo limitato e per motivazioni tecniche ma per motivazioni a monte. Non farai parte della squadra l'anno prossimo. Puoi anche giocare benissimo, puoi anche stare benissimo ma non fare parte della squadra l'anno prossimo. Come si fa a non parlare di mettere fuori rosa in maniera irregolare. Ora rispetto a tutto questo il punto è, i punti sono due. Da una parte Bonucci diventa quasi simbolo simbolo dei contestatori dei contestatori come me dei tifosi dissidenti diciamo perché ha saputo scindere il rispetto che ha dovuto e doveva alla Juventus come società dal rapporto con chi oggi rappresenta la Juventus. Cioè quando Bonucci ha mandato le pecca ha chiesto il re integro, ha minacciato causa, l'arbitrato stava agendo contro queste persone non contro la Juventus. E allora aver capito la differenza il concetto chiave io che contesto queste persone non vado contro la Juventus ma questo concetto non è chiaro a molti e non sarà mai chiaro non vado contro la Juventus ma contro questa società gestita da queste persone e quindi contro queste persone. L'altro punto è invece proprio perché non si riesce a scindere l'attacco a Bonucci. Ripeto, l'attacco a Bonucci ma perché? Perché questi qui stanno sempre sul carro dei vincitori vogliono stare sempre con i vincitori e quindi anche rispetto a situazioni uguali si comporta in maniera diversa Chiellini andava protetto e difeso Barzai andava protetto e difeso Bonucci va scaricato. La differenza qual è? Che Chiellini aveva un altro anno di contratto e se ne è voluto andare lui confermando quello che avevo detto l'anno prima e nessuno mi ha chiesto scuse e nessuno mi ha dato ragione e cioè che il biennale era solo per il mondiale ma lo ha anche detto Chiellini il biennale era solo per il mondiale quindi ha utilizzato Chiellini il peggior capitano della storia della Juventus la Juventus ha proprio uso e consumo e Agnelli e la dirigenza gliel'hanno permesso rispetto a questo dei tifosi che ci tengono alla Juve avrebbero dovuto dire tu Agnelli hai sbagliato tu Chiellini hai sbagliato e vergognatevi non permettetevi mai più di sfruttare la Juventus a vostro uso e consumo perché la Juventus viene prima di voi tutte queste cose non sono state dette Bonucci con un altro anno di contratto invece se ne deve andare e si dice si sente che sta facendo delle figuracce ma quali figuracce lui ha un anno di contratto perché è costretto ad accettare di doversi fermare un conto è metterlo in panchina non farlo giocare perché non viene ritenuto utile però la fai da uomo questa cosa cioè lo metti in panchina però lo alleni senza metterlo fuori rosa un'altra cosa è trattarlo in questo modo perché qual è il problema? Allegri perché non riescono proprio ad accusare Allegri neanche delle sue più manifeste responsabilità non dico di accusarlo di cose che non ha fatto ma di cose che ha fatto Allegri ha dichiarato ha confermato nell'intervista a Pardo su Dazon che è stato lui a decidere ma non ha avuto il coraggio di dire perché qual era veramente il motivo è stata fatta questa cosa ma qual è il motivo? ci voleva tanto era tanto difficile per Allegri dire ho deciso io perché la Juventus deve andare avanti perché Bonucci non è più un giocatore valido perché non assumersi la responsabilità concreta nel merito di cosa ha paura Allegri? perché non si assume la responsabilità? perché gli manca questo coraggio? non ha abbastanza copertura anche mediatica tanto le scimmiette applauditrici l'avrebbero applaudito lo stesso qualunque cosa dica Allegri le scimmiette lo applaudono e quindi non avrebbe rischiato nulla non avrebbe rischiato né la reputazione né la faccia allora perché non dirlo apertamente? capite? che siamo veramente a qualcosa di inaccettabile? e allora il problema è questo non avere esplicitato le reali e concrete e sostanziali motivazioni praticamente andandosi a nascondere e quasi prendendo in giro ma rispetto a questo l'attacco ripeto viene rivolto a Bonucci l'attacco viene rivolto a Bonucci che io non intendo ripeto difendere in nessun modo anzi paradossalmente quando a gennaio 2022 perché è lì che io ho rotto personalmente con Bonucci personalmente non che lo conosca cioè come tifoso quando a gennaio 2022 in Supercoppa andò ad accredire un dirigente dell'Inter e non ha ancora chiesto scusa io con Bonucci ho chiuso e dissi non è degno di fare il capitano e fui attaccato dalle stesse persone che adesso dicono che Bonucci e gli vomitano addosso di tutto il tutto pur di non criticare Allegri allora chi ci tiene alla Juventus? Bonucci più di voi mettetevi l'anima in pace mi dispiace ma ammettete questa cosa Bonucci ci tiene più di voi perché Bonucci per la Juventus ha cercato di evitare che succedesse una situazione pessima e di lottare contro una situazione pessima portata avanti da persone indegne di stare alla Juventus nonostante sia stato poco degno pure lui mentre voi state sempre avvinghiati aggrappati ad Allegri a difenderlo a proteggerlo e al dirigente di turno chiunque esso sia chiunque gli sia perché il dirigente di turno siccome sta alla Juventus è sempre il migliore non vi siete accorti che non è neanche più la Juventus ma è diventata l'Allegrentus e il caso Bonucci qualora ce ne fosse stato bisogno va a rendere ancora più certificata questa cosa è conclamata questa cosa perché Allegri decide e comanda addirittura della carriera degli altri sarebbe bello che qualcuno andasse da Allegri magari Bonucci o altri a dirgli mister tu anche se hai un altro contratto alla fine di questa stagione te ne vai da un'altra parte oppure smettiti di allenare Allegri come la prenderebbe voi come la prendereste non c'è immedesimazione perché purtroppo siamo totalmente immersi nella mediocrità e questa è una battaglia che porta avanti da tempo e continuerò finché ci sarà tutta questa mediocrità perché è inaccettabile che una club storico e glorioso e pieno di carico di valori almeno fino a qualche anno fa come la Juventus debba essere calpestato quotidianamente da questa gente che pretende di essere Juventina più degli altri e invece non lo è per niente non lo è mai stato non siete mai stati non siete mai stati Juventini voi siete solo quelli che salgono sul carro del vincitore in questa innesia battaglia ha vinto di nuovo Allegri e voi state con Allegri contro Bonucci dall'altra parte se ci fosse stato Chiellini che è stato trattato in maniera diversa siccome è stato trattato in maniera diversa sareste stati e state sul carro di Chiellini non rendendovi conto che addirittura la situazione è a vantaggio di Bonucci Bonucci ha ragione anche rispetto a Chiellini per come sono andate le cose ma mi fermo perché quello che volevo dire l'ho detto vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a mettere like e a commentare anzi a mettere like e a condividere il video se vi è piaciuto dopodiché commentate con la vostra opinione buon dibattito nei commenti e anche sulle mie chat nel server Discord link in descrizione con tanto dibattito appunto continuate a seguirmi iscrivetevi al canale attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese a questo canale per tanti vantaggi e seguitemi anche sul mio secondo canale Absim Out primo link in descrizione per video brevi sul calcio ci vediamo molto presto e senza compromessi sempre Allegri Out grazie a tutti